Le forze dell'ordine sono arrivate poco prima dell'alba per presidiare la zona Scanzano Ionico dove sorgeva l'abitazione riconducibile a Gerardo Schettino, ex carabiniere, e ritenuto dalla direzione distrettuale antimafia capo dell'omonimo clan operante sulla fascia ionica, abitazione per la quale era stato disposto l'abbattimento già nel 2011 in quanto abusiva ed edificata su un terreno di proprietà di un ente pubblico, abbattimento eseguito oggi. Rappresenta la vittoria della legalità e la vittoria dei diritti dei cittadini di Scanzano, ma dei cittadini della provincia, direi dell'intera comunità regionale, affrancarsi dall'oppressione della criminalità organizzata attraverso questa azione, anche se vogliamo simbolica, un segno forte diciamo, quindi di riaffermazione della legge sul territorio di Scanzano. Una vittoria per tutti noi. Prima sono stati portati via dall'abitazione alcuni oggetti, sempre sotto la sorveglianza delle forze dell'ordine e dopo l'arrivo di una ruspa sono cominciate le operazioni di demolizione. Un segnale della presenza dello Stato a Scanzano Ionico, un messaggio rivolto soprattutto ai suoi cittadini. Dico ai cittadini di Scanzano e non solo di avere fiducia nelle istituzioni, le istituzioni garantiscono i loro diritti, garantiscono la vita civile, garantiscono l'impresa economica, garantiscono le libertà di tutti e che questo è un segno, un segnale molto forte, ne seguiranno altri sicuramente. Ecco ma apprezzate questo segnale perché proprio significa riacquistare libertà, riacquistare libertà.